Cosa c'è di meglio se non pucciare il biscottino in qualcosa di caldo? Ciao a tutti bentornati nel canale, io sono Chef Dario De Maffioli per chi non mi conoscesse e oggi vediamo insieme i super mega biscottoni, ossia i cookies in versione senza zucchero. Naturalmente il grado di dolcezza sarà decisamente inferiore rispetto che mettere lo zucchero bianco, lo zucchero di cocco integrale, lo zucchero mascovado e compagnia bella, però per chi apprezza i gusti un po' meno dolci, un po' meno forti, godrà assolutamente e appieno di questi biscottini. Ti ricordo solo che questo biscottone è super 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 delicato, quindi solo quando sarà completamente freddo spostalo dalla teglia per evitare di romperlo, perché scoprirai che questo biscottone è super 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 friabile. Gli ingredienti sono tutti qui, quindi ho la farina di riso, la farina di frumento, il sale che ho già messo dentro, vado ad aggiungere il lievito, metto i semi di chia, ma se non hai i semi di chia vanno benissimo anche i semi di papavero, il cioccolato che mi raccomando deve essere bello fondente, io sto usando un 75 per cento, triccato, ora vado a mischiare in modo da miscelare perfettamente tutte le farine, il lievito, il sale, tutto. E qui a parte ho già mischiato latte di soia, olio di girasole e olio di cocco. Frullo con il mini peamer, un minutino al tempo che si emulsiona tutti insieme, e adesso vado ad aggiungere tutto questo all'impasto. Lavoro il composto con una spatola e appena tutto ha preso un pochino di forma vado a lavorare velocissimamente così, facendo sbriciolare tra le dita il composto, non si deve formare la maglia glutinica, questa è una cosa molto importante. Una volta che vedo che tutta la farina è perfettamente assorbita, mi fermo, come in questo caso. Perfetto! Ora aggiungo lo sciroppo di riso. Lavoro l'impasto ancora qualche secondo, tempo di emulsionare per bene lo sciroppo. Eccolo qui, vediamo l'impasto che sta insieme ma è comunque un po' sbricioloso. Questo è quello che dobbiamo ottenere. Adesso vado a fare i cookies. Per un risultato ottimale, una cottura ottimale, ti consiglio questo tappetino micro forato, che questo è della de bouillet ma esistono di 50 marchi, ti lascio il link in descrizione di questo che quello che l'ho provato funziona benissimo, perché praticamente avendo il traforo sotto, traspira e fa cuocere molto meglio il biscotto. Allora cosa faccio? Prendo circa 90 grammi di impasto, può essere 40, 50, 60, può essere della dimensione che preferisci, io faccio 90 grammi perché voglio un bel cookie bello massiccio. Schiaccio all'interno dello stampino, gli do una forma regolare, lo livello il più possibile, molto bene, e procedo così. Cosa importante per questi cookies? Mi raccomando non falli troppo belli, precisi, perfetti, un po' la parte bella anche di questo cookies è proprio la rusticità, la rovidità un po' dell'impasto e della forma che gli si va a dare, ok? Quindi anche se è un po' così va bene lo stesso. Tra l'altro non so se lo sai ma questo dolce l'ho avuto in menù per parecchio tempo al ristorante e non mi ricordo neanche quanti ne avevano venduti ma erano veramente tantissimi perché piaceva veramente un sacco. Adesso non mi ricordo, devo andare a cercare il menù per ricordarmi come era impiattato e che cosa c'era sopra poi a sto biscotto. La cosa bella che è facile e veloce da realizzare quindi semplicemente dovrai avere gli ingredienti, mischiare tutto e andare in fornare. Ah se non lo sai però ho anche un altro dolce super super facile che voglio condividere con te. Segnati la data 16 novembre webinar su il pan dolce genovese ossia quello che è il panettone nella versione genovese quindi quello basso senza tutte le alborature che sembra tipo un biscottone tanto per intenderci. se ti interessa lo prepariamo insieme il 16, se ti iscrivi al link che ti lascio sotto nel primo commento lì semplicemente una volta che ti sarai iscritto ti mando tutta la lista degli ingredienti, l'attrezzatura, tutto ciò che ti serve e così il giorno 16 cuciniamo insieme il nostro pan dolce genovese. Tra l'altro buonissimo io te lo dico buonissimo! Ah e tra l'altro questo pan dolce genovese ha anche una tecnica segretissima che ti svelo solo il 16 quindi o ci sei il 16 o ci sei il 16 quindi vedi di esserci il 16 mi raccomando! Ciao! Cos'è che devo dire? Non mi ricordo più Ciao! 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 Ciao!